Quanto lo dobbiamo tenere a mente e ci racconta il medico Sardo, attenzione c'è un tema di regole ma c'è anche un tema di comportamento individuale. Quanto sono importanti i due elementi? Assolutamente sì, ho molto apprezzato quello che ha detto il collega. Evidentemente questa etichetta bianca può aver condizionato i comportamenti e sicuramente non è che i sardi siano meno virtuosi degli altri, evidentemente no. Qui bisogna metterci d'accordo, siamo davanti a un'infezione che si trasmette con una facilità estrema e oggi ancora di più di ieri con le varianti che stanno circolando, in particolare la variante inglese. Quindi nel momento in cui c'è questa riapertura che io credo fosse dovuta tra pochi giorni, quando tutte le regioni o la maggior parte diventeranno gialle, ci vuole questa alleanza e questa convinzione che siamo tutti sulla stessa barca. Le istituzioni devono fare il loro dovere mettendo delle regole che potranno diventare sempre meno restrittive man mano che il numero dei vaccinati aumenta e avremo invece un comportamento necessariamente rigoroso da parte di quelli che non devono evitare gli spuntini, le feste eccetera. Però insomma sapendo che man mano che cresce la massa critica dei vaccinati sempre più avremo degli allentamenti. Mi permetta di aggiungere che oggi fa notizia gli ACDC ma che segue quello che avevano detto i CDC di Atlanta, quindi in Europa e negli Stati Uniti, che i vaccinati possono avere un allentamento delle regole anche se stanno tra di loro perché un vaccinato ove si infetti ed è molto molto raro ha un rischio bassissimo di trasmettere l'infezione. Questo anche qui non vuol dire tana liberi tutti ma vuol dire che ci sono dei segni positivi.